C'è una cosa che non riesci a centrare, perché mi è andato in più di spiaggia? Non so la casa, piuttosto che i buoni, gli uffizi due... Aiutami Giacomo, cos'è che non potrai centrare? Beh, forse... cos'è che non riusciamo a fare? Ecco, ecco, i parcheggi nel centro storico sarà sicuramente un obiettivo che noi non centriamo. Ovviamente è una storia lunga, sapete, ci sono state anche una serie di valutazioni di altre autorità esterne sui parcheggi, in particolare il parcheggio sotterraneo di via dei Renai. Forse il parcheggio del Cestello potremo riuscire a recuperarlo, quantomeno a lanciare una progettazione.